Siamo al porto di Acitrezza, adesso andiamo in barca a fare un aperitivo al tramonto. Siamo al porto di Acitrezza, adesso andiamo al porto di Acitrezza, adesso andiamo al porto di Acitrezza. Siamo al porto di Acitrezza, adesso andiamo al porto di Acitrezza, adesso andiamo al porto di Acitrezza. Ciao ragazzi, oggi ci troviamo nel Parco delle Gole dell'Alcantara, che è un fiume che nel corso degli anni ha eroso la roccia lavica e ha creato queste gole abbastanza profonde che adesso andiamo a visitare. Ora noi iniziamo col percorrere il sentiero che porta a due o tre punti di vedetta, il sentiero arancione che vedete sulla mappa, e poi scenderemo con l'ascensore perché siamo un po' dei lazzaroni, per poter pucciare i piedi in acqua e renderci conto quanto sia ghiacciata, perché dicono tutti che è veramente freddissimo. Vi consigliamo di prendere i biglietti online come abbiamo fatto noi perché la coda è abbastanza lunga e niente, ci vediamo sul sentiero. Grazie a tutti. Quelli che vedete lì in fondo sono dei prismi basaltici creati dall'acqua che penetrando nella colla taladica ha accelerato il raffreddamento della lava provocando queste forme. Grazie a tutti. Grazie a tutti.